Non so, uno psicologo può capire che sono cresciuto senza padre, senza che io gli racconti. Vai dallo psicologo? No. Non ci ho mai pensato? Ci ho pensato, sì. Quando ci hai pensato? Da quando ho iniziato a fare successo. Il DNA è quella cosa che ho dovuto attroversare nell'ultimo anno per un po' ritrovarmi. Mi sono ritrovato un po' con tutto e niente. Ho avuto un sacco di soddisfazioni, ho ottenuto tanti risultati che però mi hanno fatto sentire un vuoto. E adesso cosa posso raggiungere? Che cosa è Cara Italia per te, se la riascolti? È un classico. È una bella canzone italiana, uscita nel momento giusto. I pianeti erano allineati in un certo modo. Cara Italia è stata anche un'arma a doppio taglio per me. Mi ha allargato il pubblico in una maniera incredibile. Mi ha fatto entrare nelle case. È stata una hit così grande che ha alzato tanto le aspettative. A meno che non stai fermo per un bel po' dopo e non fai dei tentativi, è difficile superare una cosa del genere. Comunque mi ha insegnato a lavorare in un modo diverso quell'uscita. Faccio un passo indietro e vado nel 2017. Quando la tua musica e la tua persona sono state al centro di attenzioni enormi, dalla stampa e dalla televisione. Tu come te l'hai vissuta l'esplosione mediatica? Mi ero catapultato in questo mondo nuovo e comunque facendo le cose che in realtà facevo tutti i giorni. Solo che ad un certo punto hanno iniziato a funzionare. Man mano che si calmano le acque inizia a capire cosa stava succedendo. Venivi definito come un simbolo di integrazione, un simbolo per le seconde generazioni. Mi hanno strumentalizzato un po', ma in realtà ci sono milioni di ragazzi come me in giro per l'Italia. La differenza è che ho parlato anche per loro io, ma non volevo prendere nessuna posizione. Stavo semplicemente raccontando la mia vita, come sempre. Tante volte mi è stata data questa responsabilità troppo grande per me. Alla fine non mi sento un paladino della giustizia. La mia generazione non si fa quelle domande, non si fa quei problemi. Guarda, mi può capitare di fare politica, tra virgolette, ma non è mai volontaria. Sono uno stereotipo oggi che rappresenta una certa categoria. Tu hai preso posizione riguardo all'omofobia quando hai scelto di rispondere ai commenti che ti erano arrivati per un tuo outfit. Mi puoi spiegare che cosa ti ha spinto a scrivere quelle parole e che pensiero ti sei fatto? A me dà fastidio quando utilizzano quella parola, quando ti dicono gay, come se fosse un insulto. Cioè quanto puoi essere bacato nel cervello, quanto veramente c'è qualcosa che devi rivedere. Non me la vivo tanto bene io questa cosa del sei diventato, prima eri ora sei. Da una parte mi fa contento perché nessuno è sempre un paragone con me stesso, come se fossi diviso in due. Quindi sono sempre io. Ok, ma se sei diventato gay perché mi metto un vestito rosa, perché ho voglia di esprimermi anche così? Cioè potrei essere gay anche vestito anche con i baggy. Cioè non è mai una forzatura, è una cosa che mi diverte. Io mi concio e mi vesto in mille modi da quando sono bambino. E come fai tu a dire a me come mi devo vestire io o a insultarmi perché mi vesto in un certo modo o criticarmi senza essere costruttivo e discriminandomi? Cioè non è bello. E mi fai arrabbiare e ti rispondo in una storia. Ogni tanto mi può capitare. Allora, dopo Cara Italia mi era stato detto di fermarmi. di fermarmi un attimo e di capire. Io fremevo comunque dalla voglia di uscire con nuove cose. Avevo subito annusato quest'arma a doppio taglio di Cara Italia. Io feci un progetto di cui è la prima volta adesso che ne parlo. Forse due settimane dopo, tre settimane dopo l'uscita. Ho preso Sicchi Luke, siamo partiti per New York e lui. Non abbiamo pubblicato niente, non abbiamo fatto foto e niente. Siamo stati in studio e abbiamo prodotto cinque pezzi, cinque, sei, sette pezzi. Abbiamo fatto un EP e volevamo chiamarlo Fast Food Music perché mangiavamo junkie food, fast food tutti i giorni. E volevamo fare, ecco, questo EP e regalarlo con un tono completamente diverso rispetto a Cara Italia. Puoi immaginare con Sic Luke, no? Quindi sporcare un po' quella cosa lì perché sapevo che stavamo prendendo quella piega, tutto. Però poi per solite cazzate, strategie, avevo un team diverso. Abbiamo scelto di uscire solo con Zingarello che uscì comunque anche nello stesso periodo di Peace and Love con Sfera Charlie. Diciamo che ci sono state delle mosse un po' non azzeccate. Sempre leggendo le tue vecchie interviste, a un certo punto ne avevo letta una in cui, parlando di Charlie, lo avevi definito la sicurezza. Sì. Quindi quando avete smesso di lavorare insieme hai provato in sicurezza? Provato in sicurezza come quando ogni squadra vincente si scioglie e sei destabilizzato. Charlie sarà sempre Charlie anche senza di me, io sarò sempre Gali anche senza Charlie. Assieme facciamo delle figate, creiamo una nuova magia, ma siamo... Cioè io non sono il suo valore aggiunto, lui non è il mio valore aggiunto. Ho visto che ancora però sotto il post in cui annunciavi i producer c'era gente che si chiedeva ma Charlie, ma Charlie, ma Charlie. Come ti fa sentire questa cosa? È normale. Le cose sono andate così, non è che ci siamo detti, ci siamo incontrati, ok, da oggi non lavoriamo più assieme. Le cose sono andate così, ci siamo allontanati per vari motivi. Le ambizioni cambiano. Cioè la direzione che uno vuole prendere magari si scontra con l'altra. E poi io non ero d'accordo su un po' di cose, ti dico la verità. Non me la sono sentita di continuare. Un giorno sicuramente, e lui pure, un giorno sicuramente ci rincontreremo perché ci piace fare musica e sappiamo entrambi che assieme abbiamo fatto delle figate assurde. E basta. Cosa mi succedeva? Di andare in studio e quella volta era con Zef. Era da un po' che avevo questa lettera d'amore per un carcerato in testa. Uscì a Ilovio con tutto quel bellissimo progetto e intanto stavo pensando a mille cose io. Non stavo solo in studio a fare musica. Il carcere non è mai stato un luogo nuovo per me. Appunto ho scritto questo pezzo proprio per questo. Vivo la maggior parte dei miei giorni senza pensare a mio padre, però ci sono dei periodi in cui torna tra i miei pensieri. La casa in cui immagino sempre mio padre è il carcere. Io l'ho visto sempre più lì che fuori. Quali sono i primi ricordi che hai del carcere? C'erano altri bambini ovviamente, figli di altri detenuti. Prima di entrare nell'attesa giocavamo, ci rincorrevamo. C'era questo ragazzo che faceva beatbox. Mi ricordo questa cosa qua. Poi mi ricordo l'interno del carcere, questo bellissimo prato gigante, perché ero piccolino quindi lo vedevo gigante. farfalle dentro il carcere, è assurdo. Tu avevi accesso soltanto al colloquio o potevi stare con lui? No, 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 solamente al colloquio. Un'ora alla settimana e un pranzo di tre ore una volta al mese. No, era pochissimo il tempo. Era pochissimo. Perché doveva parlare con mia madre, stare con me, cercare di darmi l'affetto per tutta la settimana, tutto in un'ora, il tempo era poco. Non so, uno psicologo può capire che sono cresciuto senza padre, senza che io gli racconti. Vai dallo psicologo? No. Non ci hai mai pensato? Ci ho pensato, sì. Quando ci hai pensato? Ma... Da quando ho iniziato a fare successo? Ma un grandissimo problema di tempo. Tempi. Poco tempo per stare con me stesso. Ed è lì che... è un investimento, ecco, diventa un investimento a questo punto, stare da soli con se stessi. Quando ti senti di fallire, non hai niente a cui aggrapparti, cioè ti senti veramente vuoto solo. Ed è lì che devi creare qualcosa su cui salire e ricominciare a fare i passi. Ti butti e cerchi di risalire ancora. Non puoi morire guardando il panorama. se sei un artista. Questa cosa la collegavo al messaggio che hai poi postato per spiegare la caduta di Sanremo. Sì. In cui hai detto, nell'ultimo anno ho passato forse uno dei momenti più vuoti della mia vita, nonostante avessi tutto. Sì. Quindi è questo stato il momento vicino al fallimento che ti ha fatto ripartire. Mi puoi raccontare se ti va cosa è stato questo momento vuoto? Dopo tutto questo successo inaspettato, perché sembra banale dirlo, però veramente non ho mai avuto l'occasione di raccontare esattamente da dove vengo e le cose che ho vissuto da piccolino e le immagini che ho in testa. Una rivalza del genere, un riscatto del genere è da film e basta. Dicevo, ok, succede nei film, è successo in 8 Mile, a Eminem, non mi succederà mai a me. La cosa che veramente mi riempiva e quella cosa che mi riempiva, che mi portava giù al parchetto a scrivere tutta la notte, al freddo, quella cosa lì non ce l'avevo più. Avevo ottenuto quello che volevo e mi sentivo calmo, ma sempre tormentato, continuamente tormentato. e con questo senso di vuoto. Siamo stati in tanti studi in giro per il mondo. Abbiamo fatto un collage, il mio solito collage, il mio solito metodo di lavoro, di tutto il materiale che abbiamo raccolto in quel periodo ed è uscito DNA. Mi sentivo di avere un'identità, ma questa identità non veniva considerata e non arrivava a nessuno. La cosa sta nell'essere costanti a trasmettere quello che dicevo prima. L'essere costante è trasmettere quello che vivi. I momenti bui e vuoti, depressi miei, sono quando non ho amore, è come quando non provo amore. E come ti fa sentire il fatto che la tua relazione sia così mediatica? Non è il nostro obiettivo, cioè non è proprio la nostra intenzione, per niente. È stata questa cosa, non so come sia diventata così. La maggior parte delle volte in cui siamo assieme la gente non lo sa che siamo assieme. Mi fa paura che questa cosa si sporchi così. Non bisogna essere avari dei propri segreti. I propri segreti nel senso delle proprie esperienze che sai che in qualche modo possono aiutare qualcun altro. Una relazione è giusto che rimanga privata, comunque, o che si protegga. Ancora una cosa su fast food. A chi ti rivolgi nella seconda strofa? A tante persone. Da dove ti è nato tutto quanto quel testo, quella parte? Rabbia. Rabbia. E ne ho tanti i testi così. Tanti racconti, tante cose che mi fanno incazzare tutti i giorni. Grazie a Dio. Perché le trasformo. E appena le scrivo, sparisce, diventa solo un racconto. Da DNA, a un certo punto dici le persone si dividono in chi nel dolore ci annega e in chi poi si libera restituendolo. Non sono uno che fa musica solo da felice. Cioè, riesco a farla da felice, ma ho bisogno anche di un po' di dolore. Ovviamente non vado a cercarlo. Però cerco di trasformarlo. E cerco di restituirlo. In DNA ci sono tanti testi che restituiscono il dolore che ho ricevuto. Nel disco parlo tanto di questo rapporto che ho con le persone che si comportano con te prima, in un certo modo. Quando sei in hype, quando sei acceso. E poi quando appena annusano un momento di crollo iniziano a pensarti morto e il loro approccio cambia completamente. Che cos'è oggi STO per te? Non so dove partire, ma STO nasce da una mia canzone. da Jimmy, da un collettivo che si formò in quel momento con l'ambizione di cambiare le regole. Era quella... E di portare della meritocrazia. Abbiamo fondato un'etichetta. L'idea era quella di prendere altri artisti, di sfruttare il mio hype, sfruttare la potenza mediatica che avevo in quel momento e la credibilità per attirare nuove cose. Il primo fu Capo Plaza, poi Gianni Marsiglia. Ad un certo punto nacque l'idea di creare un magazine. Ed era tipo, ma Gali, vedi Buba in Francia, ha il brand, ha la sua etichetta, ha Oh Calm, il suo magazine. Cioè, perché non lo facciamo? Io non me ne ero accorto di tutto il casino che in realtà stava per accadere. Nasce il magazine. Grazie al hype del progetto Gali gli artisti iniziano a venire alle interviste. non vengono alle interviste perché, per chissà quale motivo, vengono alle interviste perché in quel momento ero l'artista del momento e dispiaceva a tutti dire no. È questa la verità. È stato utilizzato il mio hype per far conoscere al mio pubblico altri artisti. È comunque un giro abbastanza strano. Venivano scritti degli articoli sulle uscite dei vari artisti, belli o brutti, e gli artisti a cui venivano scritti questi articoli se la prendevano con me se un articolo era brutto. Capito? Perché è Gali, è il magazine di Gali. Capito? Però in realtà non potete... Se si parlava bene di me, nel magazine, ero raccomandato. Hai capito che io da quel magazine non ne ho tratto vantaggio? Sì, cioè non... Quando uscì l'album dei Dark Polo, ok? Della Dark Polo, e alla redazione di sto magazine faceva schifo? Ok. Hanno scritto l'articolo in cui dicono che l'album fa schifo. La Dark Polo cosa ha fatto? Hanno iniziato a fare storie, non verso sto magazine, ma verso di me. Iniziare a dissarsi nelle stories, cosa devo fare? Me ne sto zitto e quindi mi subisco la cosa. E intanto succede che però escono le mie cose, ottengo grandi risultati, faccio belle date, bei tour, record, e non possono essere messi lì nel magazine perché sennò sono raccomandato. Quindi qual è il gioco? Cioè io sto creando una macchina che mi sta autosabotando. E chi se ne è accorto non è venuto a dire mi gali, come la gestiamo questa cosa qui? Guarda che sta succedendo questo. La vogliamo gestire in un modo universo? No. Sono stato sfruttato, la mia immagine è stata sfruttata per far crescere il magazine senza ottenere nessun vantaggio. ma proprio la mentalità mi ha fatto separare dalla cosa. Era nato in un modo diverso il progetto. Dovevamo portare meritocrazia, dovevamo cambiare le cose, non dovevamo fare quello che gli altri stavano facendo già meglio. Non voglio accusare nessuno, cioè non voglio sputare sul lavoro di nessuno, non voglio parlare male del lavoro di nessuno, però ripeto, quando bisogna coesistere per forza nel lavoro.